Ciao a tutti amici e benvenuto in questo video Vi anticipo che voglio ricominciare il mio tutorial della programmazione da zero mentre negli anni scorsi il mio proposito era farla in C quest'anno la voglio riadattare e svolgerla in Python tanto i costrutti, almeno per quanto riguarda le basi della programmazione, sono sempre gli stessi i costrutti condizionali, i cicli, le funzioni, le classi sono concetti che bene o male ricorrono esattamente tra un linguaggio e l'altro con pochissime differenze Però perché mi voglio concentrare su Python? Perché Python è il linguaggio che sto utilizzando di più per quanto riguarda i miei interessi personali in più perché ci sono veramente tantissime librerie che consentono di fare tantissime cose quindi si può interoperare sulla blockchain piuttosto che fare analisi sui mercati finanziari piuttosto che sviluppare facilmente degli algoritmi di machine learning quindi tutti i codici che vi mostrerò nei prossimi video saranno focalizzati su Python e gli Upyther Notebook e quindi per permettervi di comprenderli meglio, per esercitarvi ma anche per fare un investimento sul vostro futuro voglio affiancare una parte di tutorial per darvi delle basi solide Allora, questo tutorial di programmazione sarà sviluppato in più parti in realtà il file a cui faremo riferimento è sempre lo stesso ma ho provato già a registrarlo tutto in una volta e viene davvero un video abbastanza noioso quindi con il tutorial di oggi ci fermiamo all'assegnamento dei valori alle operazioni e alle condizioni al massimo vediamo un po' quanto dura il video e poi proseguiremo, ci saranno i cicli, le funzioni e le classi e come importare le librerie poi è anche un file che voglio che evolva nel tempo quindi tutte le cose che non vi sono chiare e che magari do per scontato mettetemi un commento e io le approfondirò, diciamo, man mano e completerò questo codice che naturalmente potete scaricare vi metto il link in descrizione del filmato Benissimo, cominciamo e vi mostro come è strutturato questo file innanzitutto è diviso in celle ci sono celle esclusivamente di testo e poi le celle dove si andrà a eseguire il codice le celle di testo naturalmente vi danno una spiegazione che anche questa arricchirò nel tempo e sono scritte in markdown come vedete se ci fate un doppio clic sopra utilizzano questa particolare sintassi che appunto permetterà di andare a formattare il testo comunque spostiamoci sul primo capitolo nel quale si parla di assegnazioni e di valore delle variabili la particolarità di python è che è un linguaggio interpretato quindi sostanzialmente cosa fa e interprete python quando noi gli passiamo il codice esegue una linea per volta questo ci dà a disposizione di avere una proprietà particolare che è la tipizzazione dinamica infatti non bisogna dichiarare il tipo della variabile ma questo viene determinato run time a differenza con altri linguaggi di programmazione come ad esempio il Cid bisogna dichiarare già a priori il tipo della variabile vediamo che ho già inserito alcuni tipi di assegnamento quindi abbiamo una variabile booleana quindi può essere un true or false una variabile numerica intera 5 una variabile decimale una variabile stringa una variabile lista e poi una lista può essere anche composta da string e infine una variabile dizionario che è composta sostanzialmente da un'associazione chiave valore in questo caso la chiave è un nome e il cognome e poi il valore saranno appunto quello che decidiamo di assegnare alle varie chiavi poi per alcuni assegnamenti ho messo delle stampe in cui si andrà appunto a stampare il valore della variabile in questo modo e anche il tipo della variabile andiamo a eseguire la cella con shift invio e possiamo vedere che ad esempio per quanto riguarda la prima stampa otteniamo il valore della variabile il tipo è un tipo intero il secondo per quanto riguarda la variabile decimale stampiamo comunque il valore che abbiamo assegnato capiamo che è un tipo decimale detto float e poi ho stampato anche il valore della variabile dizionario quindi viene riconosciuto come dict qui stampiamo completamente l'oggetto se invece vogliamo accedere alla proprietà del nome dobbiamo semplicemente prendere il nome della variabile e tra parentesi quadre inserire il nome della chiave che vogliamo stampare poi vi invito naturalmente a scrivere voi stessi delle variabili e provare a stamparle è il miglior modo per esercitarsi nel secondo paragrafo invece ho riportato le principali operazioni che sono la somma, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione il modulo questo è un po' più particolare ma è semplicemente un operatore che permette di ottenere il resto di una divisione intera e questo ci sarà utile per dei tutorial successivi sulla criptografia poi la divisione la concatenazione di stringhe e la concatenazione di liste cioè praticamente l'unione di due liste separate quindi premiamo invio e potete vedere in modo interattivo quali sono i risultati delle varie operazioni anche in questo caso vi consiglio di esercitarvi voi stessi andiamo a concludere per questo tutorial parlando delle condizioni e dei costrutti condizionali intanto andiamo a introdurre dei nuovi tipi di operazioni che sono lo strettamente maggiore lo strettamente minore il maggiore uguale il diverso e l'uguaglianza e inoltre tutti questi costrutti possono essere anche legati da condizioni di AND OR ma adesso andiamo a eseguire per vedere in dettaglio innanzitutto abbiamo assegnato due valori che sono A e B in questo caso A a 10 come valore B a 5 quindi andiamo a eseguire e possiamo andare a verificare i risultati di tutti i vari operatori condizionali quindi se A è strettamente maggiore di B è true se A è strettamente minore di B naturalmente è false e così via se andate poi a cambiare questi valori ad esempio se qua mettessimo 15 potete verificare tranquillamente come cambia il risultato di questi operatori però perché sono utili questi operatori? perché ci permettono appunto di andare a definire dei costrutti condizionali questo significa che al verificarsi di una particolare condizione possiamo eseguire una particolare operazione quindi ad esempio qui vediamo la prima è quella semplice dove c'è solo la parola chiave IF che dice sostanzialmente se A è diverso da B allora esegui questa operazione la seconda dice invece se A è diverso da B esegui questa operazione altrimenti in tutti gli altri casi esegui quest'altra cioè deduciamo che A è uguale a B infine l'ultimo costrutto è quello più completo cioè ci dice se si verifica questa operazione esegui quest'azione e lì si indica se invece si verifica quest'altra condizione esegui quest'altra azione e poi vabbè in tutti gli altri casi si esegue sempre il blocco else quindi andiamo a vedere come poi viene modificato il flusso rispetto ai parametri che andiamo a determinare in questo caso proviamo a modificare il valore delle variabili con un valore uguale quindi A e B hanno entrambi 10 e possiamo vedere che nel primo caso non viene stampato niente proprio perché in realtà questa azione qui viene eseguita solo se i valori sono diversi nella seconda struttura condizionale invece il primo viene totalmente scartato e quindi viene eseguito il ramo else e invece nell'ultima struttura condizionale viene eseguito il ramo elif proprio perché viene testato e verificato che A e B sono uguali infatti potete vedere che le stampe sono congruenti con quello che ci aspettiamo con questo ho concluso la prima parte del tutorial che andrà avanti nelle parti successive ma appunto voi avete già a disposizione il codice per tutto il tutorial quindi potete comunque andare avanti a eseguire e modificare anche le parti successive del codice vi ringrazio per avermi seguito fin qui e ci vediamo alla prossima grazie a tutti